Oggi è una giornata molto molto importante perché c'è codice rosso ok, nel senso che la legge 119 sul femminicidio sono stati passi avanti, cioè tutte quelle che sono le violenze domestiche, le violenze reiterate, il revenge porn, insomma tutte queste situazioni poco piacevoli sulle donne, frutto anche di violenze psicologiche e quant'altro, sono state valutate per bene e quindi ci sarà in breve tempo un inasprimento delle pene per tutti coloro che in pratica eccedono in questi tipi di violenze domestiche. Quindi comunque è un gran bel risultato, considerato che per anni tante donne sono e purtroppo mi rimangono zitte, quindi un inasprimento delle pene. L'unica problematica che è poco piacevole è il fatto che quando queste persone escono dal carcere dovrebbero fare un recupero in una comunità dal punto di vista psicologico, emotivo e quant'altro per evitare che loro tornino a fare quello che avevano fatto nei mesi precedenti, cioè violenza gratuita sulle loro mocchi, ragazze, fidanzate o quant'altro. Spesso e volentieri sono spese che debbono sostenere loro, non sostenono lo Stato, nessuno se ne frega niente e quindi chi deve controllare non controlla e quindi siamo punte da capo. Questo è l'unico neopoco piacevole diciamo di quando queste persone vengono in pratica scarcerate. Artista esistenzialista, buongiorno a tutti.